Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Non essere in gordo. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Di ogni cosa che usiamo dobbiamo farne un buon contegno, senza esagerare ma dando un giusto compenso e una giusta attenzione. Non bisogna essere ingordi, bisogna saper dosare gli atteggiamenti e le cose che usiamo. Quindi se non siamo ingordi comprenderemo davvero il giusto e ben sperato atteggiamento rivolto ai sapienti, alla gente che sa valutare le cose e capire come agire in una maniera giusta. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Non essere in gordo. Di ogni cosa che usi, fanne un buon contegno, senza esagerare nei meriti, ma adottando il giusto compenso. Non essere in gordo sappi dosare l'attenzione per l'esercizio del saggio contegno e ricavarne la giusta razione. Non essere in gordo e davvero comprenderai il giusto e ben sperato atteggiamento dedito ai sapienti. Siano i tuoi atteggiamenti misurati per ogni evenienza, per ricavare i giusti contesti ricchi di santa eloquenza. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.